Una democrazia che mette in discussione la libertà e la tutela dei diritti è una democrazia che sta per morire. Lo ha detto l'ex ministro dell'interno Marco Minniti ieri a Sarzana, dove è arrivato per sostenere il candidato PD al ballottaggio Alessio Cavarra. Sottotiro l'intera politica dell'attuale governo, soprattutto del suo successore Matteo Salvini, a cominciare dal censimento dei Rom. Non c'è un'emergenza sicurezza nel nostro paese, abbiamo passato momenti molto impegnativi e tuttavia abbiamo tenuto insieme i principi della libertà e della sicurezza. Adesso corriamo il rischio che l'Italia si metta in una condizione abbastanza eccentrica rispetto agli altri grandi paesi europei, si mette in una condizione di isolamento e tutto questo non serve né a governare i flussi migratori né a affrontare con serietà e con coraggio i temi della sicurezza. Il 2017 è stato l'anno più difficile per quanto riguarda gli attacchi terroristici in Europa. Per l'Italia è stato un anno molto importante e molto impegnativo, non abbiamo avuto attacchi e contemporaneamente abbiamo avuto il più alto livello di turisti stranieri nel nostro paese da moltissimi e moltissimi anni. Ecco, l'Italia è esattamente questo, un paese bello e un paese sicuro. Minniti attacca l'alleanza antimigrante di Salvini che guarda al centro dell'Europa. Noi abbiamo un alleato per il governo italiano che si chiama Orban, il quale oggi ha proposto che la parola accoglienza venga cancellata dalla Costituzione europea. Ecco, non è un problema di proposte concrete, il problema è di valori, di valori fondativi su cui abbiamo costruito la convergenza, la convivenza, lo stare insieme in Europa. E poi giù con le parole d'ordine del suo successore, dalla pacchia è finita alla crociera che secondo Matteo Salvini stava facendo la nave Aquarius approdata a Valencia. Si è deciso di fare un gesto nei confronti di una nave che aveva salvato dei migranti al largo della Libia, un gesto che non ha un fondamento reale, è un simbolo e come tutti i simboli possono rovesciarsi nel loro posto. E infine arriva anche l'autocritica. Abbiamo commesso errori? Sì, potevamo fare meglio? Sì, potevamo ascoltare di più? Sì, ma abbiamo imparato la lezione. Ha concluso Minniti.